www.feyyaz.com Buongiorno I buy this car You can run it 8 When you have enough space start the second Bravo 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 guys try to put the ball in the goal Bravo guys Bravo guys Bravo Come on Come on Come on Come on Let's talk Yes Come on Come on Come on Come on Come on Sì, sì, vieni, 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 vieni. 8, ok, 8, più 4, più 2, 6 gioli. Quindi quando perdete la balla, immaginamente provate a ritrovare la balla e non per farvi la proposta di sviluppare la posizione, per sviluppare la balla, è molto importante la reazione, perché dopo, hanno 6 più giocatori. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Inizio e inizio, non aumentate nel medio, specialmente quando gli altri sono organizzati. Non vedete cosa sta dietro, non provate a girare. Spreta dove vedi, hai superiorità. Se ho provato a girare e non vedo cosa sta dietro, e ho il mio obiettivo che prendono il ballo, e vanno direttamente a scorrere. Quindi spriate dove vedi, se ho capito da questa movimento, non è nessuno, ok, non puoi. Non puoi. Inizio dal comando, uno, due, inizio. Reagno, reagno, reagno! Il cervello è qui. Uno, due, bravo. Giorno! 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 Sì, fai, grigola Sì, fai, grigola Sì, fai, grigola, più agli dico Sì, fai.